Siamo molto onorati di avere con noi Jacques Vigne, che viene dalla tradizione di Ananda Moïma, discepolo di Ananda Moïma, che è qui oggi con noi e vogliamo fare qualche domanda a lui. Lui si è dedicato molto al legame tra spiritualità e psicologia. Quale è questo legame tra spiritualità e psicologia? Provo di parlare in italiano, benché il mio italiano non è corrente, però provo un po' l'andamento. Da 22 anni sono in India e studio il legame tra psicologia e spiritualità. Il mio guru era 30 anni con Ananda Moïma e era un medico francese. Conosceva la psicologia e conosco ora anche perché è vivente ora. La psicologia vede i problemi, però la spiritualità vede attraverso i problemi. È come una vetrata in una chiesa. C'è il sole dietro la vetrata e questo sole dà il senso alla vetrata. Il sole del sé dà il senso alla complicazione della mente. Alcune persone dicono che per veramente sperimentare una trasformazione interiore non bastano le pratiche spirituali. Ci vuole anche un lavoro tipo psicologico, analitico. È vero questo secondo lei? La tradizione dello yoga risalga a 3 miliardi di anni o 4 miliardi di anni e la psicoanalisi risalga solo a un secolo. E anche è già molto cambiata, trasformata. Però in l'Occidente corrente si può che conoscere la sua mente con la psicologia può essere un aiuto. Deve scegliere un psicoterapia che è interessato nella meditazione e nella spiritualità. Se no, sarà una distruzione di qualcosa che è molto fragile, come una piccola pianta che ha bisogno di essere protetta. Alcuni in India dicono, molti dicono che siamo nel Kali Yuga, uno sviluppo molto molto basso in verità della coscienza umana. Altri dicono che siamo invece arrivati a un livello molto superiore rispetto a una volta. Lei cosa pensa? A che punto siamo arrivati con l'evoluzione generale dell'umanità? È una grande questione. Posso dire ciò che il mio guru dice sul Kali Yuga. Non è d'accordo che sono nel Kali Yuga perché non sono le segne del Kali Yuga. Nel testi sacri dell'India dicono che nel Kali Yuga l'India sarà separata in molti piccoli ragioni che li ti garano insieme. Ma oggi l'India è un'unità e che la vita dell'essere umano sarà breve. Però ora la vita dell'essere umano in India e in Occidente non è mai stata così lunga. Non sono le segne del Kali Yuga, però non è l'età d'oro neanche. È una liberazione delle forze spirituali indipendenti. Prima le religioni erano molto potenti, però ora l'indipendenza è più facile. Tutti gli yogi parlano del Samadhi e dicono anche che ci sono diversi livelli di Samadhi. Nella vostra tradizione come si spiegano questi diversi livelli di Samadhi? Ci può dare una spiegazione? Ma non è mai entrava spesso in Samadhi. Anche ogni anno, durante il suo compleanno, passava la notte in Samadhi. Diceva qualcosa di molto semplice sul Samadhi. Nel Samadhi i polmoni non respirano. Non respirano. Il Samadhi è come un sonno con ipercoscienza e una gioia molto intensa. Supercoscienza e una gioia intensa. Sono i segni semplici di Samadhi. Se io o qualcun altro che ci ascolta vuole entrare in Samadhi, cosa si deve fare? Cosa sono le condizioni per veramente poter sperimentare questa supercoscienza, questa gioia assoluta? Tutti vogliamo essere gioiosi. Come possiamo entrare in Samadhi? Il mio maestro dice spesso che il più importante è il bhava. Bhava significa lo stato interiore, l'emozione spirituale. Questo bhava dirige la nostra mente, la nostra energia, il nostro prana. E se il bhava è giusto, il Samadhi è molto più facile. Allora, lei ha un ermitaggio in Himalaya, vero? E ci va spesso in India per ritirarsi. Cosa vuol veramente dire essere eremita? Sono in India la metà del tempo in ermitaggio, in un piccolo eremo vicino alla frontiera del Nepal e del Tibet. E essere in ermitaggio e essere in silenzio. Non solo il silenzio esteriore, però anche il silenzio interiore. E per me, forse non è la definizione classica dell'eremita, ma per me è un tempo per studiare e leggere anche. Ah, silenzio, studio. Leggere, scrivere, scrivere, scrivere. Però ho due velocità nell'eremitaggio, se può dire. sia fare tutto il giorno la meditazione, sia fare la meditazione prima la colazione, dopo nella mattina scrivere e studiare e dopo nel pomeriggio, nella sera, di nuovo meditare. Questo equilibrio mi piace molto perché posso avere le due cose. Però il ritiro con la meditazione tutto il giorno è il mio scopo in lungo termine. Grazie veramente tanto, Jacques Vigne, Swami Vigyananda. Ringraziamo e salutiamo. Veramente siamo contenti e grati per queste parole di saggezza della tradizione di Ananda Moima.